Buongiorno, sono Marta e siamo alle sere di San Nicola. Vi presento le due famiglie di api che abbiamo portato un mese fa in Valletta, approfittando del fatto che questa è la stagione in cui le famiglie mettono in atto il loro sistema di riproduzione. Ma cosa succede dentro questi alveari? Già osservandoli dall'esterno si possono capire alcune cose. Con questo via vai intenso, le api portano il nettare raccolto dai fiori, fonte di zuccheri necessari all'alveare. Osservando bene, ci sono alcune api che trasportano sulle zampe palline di polline raccolte sempre dai fiori e fonte di proteine ugualmente necessarie all'alveare. Il nostro obiettivo sarà quello di mantenere le famiglie in vita, osservando e controllando anche all'interno le attività e la vita della regina, che è il fulcro attorno a cui si sviluppa la vita della famiglia. Abbiamo ancora tante e tante cose da scoprire insieme. Le api sono visibilmente tranquille, hanno sicuramente da subito conquistato l'immaginario di grandi e piccini e questo mi sembra un buon punto di partenza. Vi aspettiamo!